I residenti di Carrara di Fano chiedono interventi urgenti alla viabilità per scongiurare altri incidenti gravi lungo la Flaminia. Caos in zona mare a Fano, camion bloccati dalle auto in sosta nei nuovi parcheggi in Viale Adriatico. È difficile, non ci passa, ecco, senti, sta dicendo che ovviamente non ci passa, deve spostare la macchina bianca. Questa è l'intelligenza dei nuovi parcheggi e non è la prima volta che succede. La siccità inizia a preoccupare anche i sindaci dei comuni del Pesarese, già firmate le ordinanze antispreco a Fano. Pesero e Valle Foglia, multe salate per i trasgressori. Anche nelle Marche si sfiorano i 30 gradi, ormai da diversi giorni, per chi può scatta la corsa al mare in piscina per fronteggiare la canicola estiva. Dalla città di Udine a quella di Copenaghen in bicicletta è l'impresa di un 50 tren di Fossombrone appassionato di ciclismo, in programma 1.800 chilometri da percorrere in due settimane. Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 19. Occhio alla notizia che questa sera apre con l'appello lanciato dai residenti di Carrara di Fano che chiedono interventi urgenti al Comune per risolvere il problema dell'alta velocità delle macchine lungo la Flaminia. L'ultimo incidente è accaduto infatti pochi giorni fa. La situazione qui non va affatto bene, non è sicura. Io ho paura. È un tratto di strada che più volte è stato teatro di incidenti anche gravi, ma nessuno ad oggi ha preso dei provvedimenti per modificare la viabilità lungo la Flaminia a Carrara di Fano, dove ora i residenti, stanchi e preoccupati per l'ingolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti, hanno deciso di riunirsi per lanciare insieme un appello all'amministrazione comunale. La visibilità è inesistente, ci sono gli arbusti. Adesso fortunatamente hanno tagliato l'erba, ma altrimenti c'è anche l'erba alta un metro e mezzo o due, non fa vedere niente. La velocità oggi stranamente vanno piano, chissà perché, ma qui un minimo degli 80 non va nessuno. Poi le macchine in divieto di sosta, quando si accede sulla via Flaminia da via Crocelevata, che è proprio questa, e da via San Cesario, che è quella di là, noi ci facciamo il segno della croce, perché ogni volta è un terno all'otto. Si è visto domenica con l'incidente in cui è atterrata l'eliambulanza, non è la prima volta che atterra l'eliambulanza. Io ho i miei genitori che abitano proprio qui a 200-300 metri. Mi ricordo quando ero piccolina, l'eliambulanza che atterravano su questo campo. È necessario metterla in sicurezza, anche perché domenica scorsa c'era la possibilità che la moto dell'incidente prendesse una mamma con il bambino. Gaia poi ha ricordato anche un altro sinistro che si è verificato circa un mese fa. Se imbattevo io in uno di questi due incidenti, non so cosa capitava con le bimbe nella macchina. Siamo preoccupati. Lei abita qua e diceva che preferisce prendere la superstrada perché è più sicura. Esatto, io vivo qui ma lavoro a Calcinelli e ogni mattina verso le sette e mezza, otto, invece che attraversare questo incrocio dove mi incontro le macchine da Lucrezia che vengono giù a velocità sostenuta. Ho la semicurva, non vedo bene, poi ho anche l'incrocio di chi scende da San Cesario e va a Fano. Invece di rischiare tutti i giorni per andare a lavorare, preferisco prendere la superstrada o alcune volte succede anche che se il traffico è intenso mi invento una rotatoria e non sono l'unica in diversi. Giriamo la macchina nel parcheggio che c'è vicino al parco e poi ci richiamo poi verso Lucrezia. Ma qui, ha proseguito Roberta, è pericoloso anche per i pedoni che attraversano la strada, proprio perché la visibilità è ridotta e la velocità dei veicoli è sostenuta. Una situazione che si protrae ormai da tantissimo tempo, come la state vivendo e quali sono le soluzioni che chiedete? Allora, la situazione purtroppo ecco sì, si protrae da un sacco di tempo e nonostante epiloghi molto tristi non siamo giunti ad una vera soluzione del problema perché praticamente non si è fatto nulla nonostante la gravità degli episodi accaduti. Secondo noi residenti la soluzione sarebbe una rotatoria per cui c'è tutto lo spazio necessario in questa zona e chiaramente adottare autovelox anche a discapito di noi residenti perché sicuramente non dico che io rispetti 50 in ogni tratto di strada, però sicuramente per me e per la maggior parte delle persone che abitano in questo tratto di strada la soluzione è solamente in questi mezzi. Se chi di competenza ci può aiutare a risolvere il problema perché la sera, di giorno, in certi orari questa strada diventa una strada dove si fanno gare, le macchine sorpassano ad una velocità pazzesca. Purtroppo non siamo neanche dotati di piste ciclabili, di nulla. Pensare di uscire in bici qui è dire esco ma non so se rientro a casa. Comunque denunciamo il disagio per noi residenti ma proprio per l'incolumità di tutti i cittadini perché non è giusto che in questa strada si possa andare ancora così velocemente nonostante tutti gli episodi che sono avvenuti. Nella zona mare invece siamo nella zona di Sassonia, Viale Adriatico. La protesta è di altri residenti che lamentano i nuovi parcheggi che di fatto ostruiscono il passaggio dei mezzi. Vediamo questo servizio e soprattutto le immagini. Ecco cosa succede con i nuovi parcheggi che hanno realizzato il Viale Dante Lighieri. Il camion non riesce a passare, c'è un impedimento che sinceramente adesso non ho capito qual è ma c'è un impedimento. Parcheggi intelligenti, erano tanto belli a sfida di pesce, così invece cosa servono? E questa non è la prima volta che capita, deve esserci qualcosa dietro che fa impedire al camion di passare una macchina, qualcosa che non riesce a passare. C'è il camionista che è sceso, altrimenti c'è qualcosa che non va. Ripeto, siamo nell'incrocio Viale Dante Lighieri e Viale Cristoforo Colombo, da quando hanno fatto questi nuovi parcheggi. È difficile, non ci passa, ecco, senti, sta dicendo che proprio non ci passa. Deve spostare la macchina bianca. Questa è l'intelligenza dei nuovi parcheggi e non è la prima volta che succede. Non riesce a passare, deve spostare la macchina bianca. Ci sta provando, penso a filo, ma non ci riesce. Ripeto, non è la prima volta che succede. Questa idea di fare così i parcheggi, invece di lasciarli come erano prima a spina di pesce, non è una soluzione vincente. Un ragazzo si è reso volontario adesso per aiutarlo a farlo passare, gli dà indicazioni. Così hanno ristretto tantamente la strada, che è una cosa vergognosa. Complimenti al camionista che a pelo, povero, si sta adoperando per fargli il suo meglio. Ecco, grazie a Dio questa volta ce l'ha fatta. E adesso invece la pagina degli incidenti, perché purtroppo accadono anche quelli. Un incidente si è verificato questa mattina dopo le 10 in via Roma a Fano, un fanese di 45 anni a bordo di una panda dell'azienda Aset, giunto all'altezza di via Togliatti. Nello svoltare a sinistra è entrato in collisione con un 33enne perugino in sella ad una bicicletta. Quest'ultimo, che percorreva via Roma sulla pista ciclabile a causa dell'urto, ha riportato lievi lesioni. Sul posto la polizia locale, il 118 che ha trasportato il 33enne al pronto soccorso del Santa Croce. Poco prima, in Viale Romagna, sempre a Fano, una cinquantena alla guida di una Volkswagen Up, ha tamponato l'autocarro che la precedeva. Il conducente, un peserese di 37 anni, stava rallentando per far attraversare un pedone. La donna, che è rimasta ferita, è stata portata in ospedale. E adesso invece cambiamo argomento. Parliamo della siccità, del caldo, ma anche e soprattutto in questo momento della siccità, perché alcuni sindaci hanno già deciso di correre perlomeno ai ripari. In che modo? Firmando in anticipo le cosiddette ordinanze antispreco d'acqua. E allora ricordiamo anche che ci sono multe salate per i trasgressori. C'è chi gioca d'anticipo e non attende la dichiarazione ufficiale dello Stato di emergenza o l'ordinanza della Regione Marche, che verrà emessa nei prossimi giorni, in coordinamento con le prefetture. In alcuni comuni, infatti, scattano già le prime disposizioni per il risparmio idrico, che rimarranno in vigore fino al prossimo 30 settembre. Il sindaco Palmirucchielli ha firmato un provvedimento per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile ai suoi usi primari, alimentari o igienico-sanitari. Stessa ordinanza anche a Fano e a Pesaro, a delencare i divieti. L'assessore alla sostenibilità è Edi Morotti. Come annaffiare orti, lavare o sciacquare o bagnare cortili, strade, lavare auto, riempire piscine, insomma tutto quello che non è un uso domestico dell'acqua potabile. Pertanto chiediamo anche la collaborazione della cittadinanza perché è molto importante in questo momento, visto che non piove effettivamente da moltissimi mesi e la siccità si comincia a far sentire. Per i trasgressori, inoltre, sono previste sanzioni tra i 25 e i 500 euro. Se dovessero esserci delle segnalazioni o la polizia locale durante le loro normali attività di controllo dovessero vedere qualche atteggiamento contrario alla ordinanza, sicuramente entreranno in azione e applicheranno le sanzioni previste. La responsabilità e le buone pratiche del singolo, ha proseguito l'assessore. Se condivise fanno la moltitudine e quindi la differenza, anche in termini di buon esempio e di passaparola virtuoso di scelte sostenibili. Morotti poi ha invitato i pesaresi ad adottare alcune azioni quotidiane. Si chiede alla cittadinanza di essere il più possibili collaborativi, possibilmente di mettere dei frangigetto nei rubinetti di casa, nelle docce, che comportano un risparmio idrico del 50%, di cercare di utilizzare l'acqua casalinga dove possibile per annaffiare le piante, di chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti, si fa lo shampoo. Insomma, cerchiamo di avere tutti quegli atteggiamenti e quegli accorgimenti possibili per cercare di risparmiare un po' di acqua e di venirci tutti incontro. L'altra faccia della medaglia, con le temperature così elevate, le giornate praticamente soleggiate, è una tocca sana invece per coloro che sono in vacanza e che dunque vanno e decidono di passare le loro giornate al mare. È iniziata anche quest'anno la stagione estiva. Ci troviamo nel lungomare di Fano, in Sassogna, dove andremo ad incontrare alcuni bagnanti che ci racconteranno come passeranno le loro vacanze estive. Come sta andando questa giornata di mare? Bene. Bene. Siete di Fano o venite da fuori? Io vengo da fuori, Fossombrone. Sei qui con gli amici? Sì. Voi invece come vi stanno andando le vacanze estive? Bene, bene. Meglio di così, meglio di così. Meglio di così non potete andare. Avete finito la scuola? Sì. Sì. Con fortuna l'abbiamo finito. Avete programmi per quest'estate oltre al mare? No, a casualità. Forse qualche viaggio. Viaggio e dove ci porta il cuore? Quale meta pensavi di scegliere? Viaggio all'estero. Bisogna vadere anche un po' dall'Italia. Certo. Hai qualche meta in particolare? Spagna. C'è abbastanza caldo, si sta bene, si sta godendo il mare. Si fermiamo poco, comunque veniamo sempre qua. E quindi siete di fuori, siete qua in vacanza? Sì, veniamo sempre qui in vacanza. Sì, noi ripetiamo, siamo di Piacenza, appena abbiamo una settimana così, per fare una cosa in fretta e veniamo qui. Perché proprio Fano? Perché ho dei parenti da queste parti, non proprio qui a Fano, comunque diciamo nell'interno, per cui abbiamo una casa qui e siamo qui anche per comodità. E avete in programma qualche altro viaggio per quest'estate? Attualmente no. Magari torniamo qui, magari facciamo un giro a Urbino, poi si vedrà. Noi qui lo usiamo, è comodo per noi. Viaggi da altre parti? Per adesso no, non abbiamo in mente niente. Quindi Fano per il mare e Urbino come città culturale? Voglio farlo vedere lei, io lo conosco, lei l'ha mica mai visto, allora volevo farglielo vedere tutto qua. Sì, no no, qua veniamo sempre volentieri e speriamo, questo pezzo di spiazza ad esempio, sono quasi 15 anni che ci vengo e sto benissimo. Come stai passando queste vacanze estive? Bene, al mare, al sole, divertendoci. Una ragazza mia? Beh, sempre bene. Siete qua perché siete di Fano o siete in vacanza? Io non sono di Fano, solo lei. Io vengo solo per lei. Quindi sei qui per amore? Sì. E cosa farete oltre ad andare al mare? Boh, discoteca, viaggi, non so, sempre quella. Com'è l'acqua del mare oggi? È abbastanza fredda. Però il bagno vedo che l'hai fatto, quindi è fattibile. È fattibile. Come sta andando questa giornata di mare? Beh, è abbastanza bene, diciamo. Il tempo poteva essere migliore, ma si può risparmiare. Comunque è caldo, quindi direi che si sta bene. Sì, sì, almeno quello, dai. E sei di Fano o sei venuta qui in vacanza? No, no, io in realtà sono di Lucrezia, quindi vengo qua spesso, però giro più a Fano che a Lucrezia. Per amici? Sì, esatto. Ok, e cosa farete oltre ad andare al mare in questi giorni? Io, ad esempio, ho la gita di scuola, quindi vado a Vienna, a Luglia. E per il resto mi sa che gireremo anche a Pesaro, quindi qua in zona. Sì, esatto, sempre qui. La Guardia di Finanza di Pesaro oggi ha celebrato il 240esimo anniversario della Fondazione del Corpo. La ricorrenza è stata anche l'occasione per stilare un bilancio dei risultati conseguiti in ambito provinciale dal 2021 allo scorso mese di maggio. In totale i finanzieri hanno eseguito 5.600 ispezioni e 550 indagini contro la criminalità. 80 persone sono state denunciate per reati tributari ed il valore dei beni sequestrati è stato di oltre 10 milioni di euro. Inoltre sono stati scoperti 50 evasori totali e 60 persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Infine, le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono stati 22. Il Comune di Fano si è aggiudicato un bando per migliorarne l'efficienza energetica all'interno del Teatro della Fortuna. Tra fare di scena e impianto di climatizzazione si avrà un risparmio di 20 mila euro l'anno. Un obiettivo centrato dall'amministrazione fanese che non si è fatta sfuggire l'occasione di ottenere risorse per migliorare e adeguare, dal punto di vista energetico, la Casa della Cultura. Il Comune di Fano si è infatti aggiudicato un bando da 400 mila euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al quale potrà intervenire all'interno del Teatro della Fortuna, un edificio storico che si articola su cinque piani, dal seminterrato al sottotetto, per 3.800 metri quadrati di superficie e un volume di oltre 28 mila metri cubi. Un risultato straordinario ottenuto da un lavoro immenso fatto in tempi brevissimi. L'importo totale è 650 mila euro, quindi il Comune parteciperà con 250 mila euro, ma importantissimi questi 400 mila euro che ci permettono di fare dei lavori importanti. Forse non noteremo delle differenze entrando in teatro, però facciamo dei lavori strutturali sugli impianti, quindi andando a sostituire tutto l'impianto di climatizzazione e anche sulle luci di scena, che sono attualmente molto energivore. Quindi andandole a sostituire, prevediamo che complessivamente avremo un risparmio di 20 mila euro all'anno rispetto a quello che spendiamo oggi. E la fine dei lavori per quando è prevista? Allora, come sappiamo, le tempistiche del PNRR sono veramente rigide e anche molto strette. Quindi la fine dei lavori per ora dal bando è prevista per settembre 2023. L'assessore ha poi ringraziato l'ufficio dei lavori pubblici, l'ufficio Europa, la ditta Politecnos e la presidente della fondazione Teatro Katia Amati. Interventi programmati permetteranno a questo edificio di fare un passo in avanti nella classe energetica che da lei passerà alla D. Il presidente ha rimarcato appunto il grande lavoro di squadra che c'è stato. Sì, siamo molto contenti perché l'interesse primario era quello di teatro-città e questo è fondamentale. Mettere insieme le esperienze di chi opera all'interno dell'amministrazione comunale insieme ai tecnici del teatro. Questo significa poi arrivare a progetti di questo tipo che secondo me poi sono un'anteprima di quello che si può poi fare. Perché come sapete PNRR e soldi ce ne sono, progetti devono essere pronti. Questo ha dato il là per ora. Siamo molto contenti, ci mettiamo subito al lavoro per fare il cronoprogramma, per rispettare i tempi che è fondamentale. Ma soprattutto per arrivare a questo efficientamento energetico che per noi è stata veramente una grande impresa. E soprattutto oggi siamo contenti perché un finanziamento così importante insieme anche a una parte di finanziamento che metterà l'amministrazione comunale ci permetterà veramente di parlare di risparmio energetico e luoghi sempre più accoglienti da tutti i punti di vista. Domenica prossima dalle 7 alle 23 i cittadini di 5 comuni marchigiani torneranno alle urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si voterà Civita Nova Marche, Corridonia e Tolentino in provincia di Macerata, Aiesi in provincia di Ancone e a Sant'Elpidio al Mare, provincia di Fermo. Lo spoglio inizierà la sera stessa subito dopo la chiusura delle votazioni. Da questa mattina alle 6 invece è scattato lo stop ai cantieri lungo il tratto marchigiano della 14. La sospensione durerà fino alle ore 22 del prossimo 6 settembre. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha sottolineato l'impegno mantenuto grazie anche ad Autostrade per Italia che ha accolto la richiesta della regione per non creare disagi ai viaggiatori nei periodi in cui i flussi del traffico aumentano con la stagione estiva che entra nel vivo. A Fano invece nel mese di luglio inizieranno i lavori di carotaggio nel bacino di evoluzione e nel canale di accesso al porto. Lo ha annunciato il vice sindaco Cristian Fanese che ha incontrato gli operatori della darsena turistica. I risultati previsti entro l'estate decreteranno la presenza o meno di materiali inquinanti sul fondale e si potrà procedere al dragaggio trasportando poi il materiale nell'area di immersione a largo del porto di Ancona. E adesso diamo spazio ancora alle vostre segnalazioni con un video che un nostro reporter di strada ha realizzato in un parcheggio pubblico. Qui siamo adiacenti al comet di Fano nella zona sud. Il segnalatore ha sottolineato l'incività totale delle persone facendo vedere la sporcizia e come vedete con decine di rifiuti di ogni genere gettati a terra e lo stato di degrado del parcheggio d'incuria. Continuano a Fano invece gli appuntamenti di Passaggi Festival dedicati al mondo dei libri e della cultura. Ieri sera il pubblico di piazza 20 settembre ha accolto Nando Dallachiesa e Gianni Cuperlo. Passaggi Festival continua a stupire e a riempire tutte le piazze e i luoghi scelti per le rassegne librarie che animano la decima edizione. Il pubblico presente alla quarta giornata ha vissuto un momento dedicato alla commemorazione del trentennale della strage di Capaci con la presenza sul palco di piazza 20 settembre di Nando Dallachiesa. La possiamo definire ormai un amico di Passaggi? Stasera sarà sul palco per presentare che cosa? Per presentare Ostinati e Contrari che è un libro che ho curato avendo come autori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È un libro pensato per questo trentennale per ricordare alle persone che cosa Falcone e Borsellino hanno detto e scritto e non soltanto la leggenda che ci commuove perché poi bisogna imparare da queste persone. Bisogna sapere che cosa hanno detto, cosa pensavano davvero. Secondo lei come è cambiata in questi anni la lotta alla mafia? Beh, in trent'anni è cambiata molto. Intanto bisogna pensare che ci sono delle leggi nuove, non soltanto la legge dell'Unione di Latore che dell'82, quindi è di prima, ma le leggi sulla collaborazione dei cosiddetti pentiti, la legge sull'isolamento in carcere, la legge soprattutto che consente l'utilizzo sociale dei beni confiscati che è stata una rivoluzione e che ha creato anche una nuova economia antimafiosa. Molto lavoro è stato fatto anche nelle scuole, ha proseguito dalla Chiesa, che ha poi ricordato le diverse condanne all'ergastolo dei capi delle organizzazioni dei clan di Cosa Nostra, della Camorra e dell'Andrangheta, nonché l'istituzione della giornata nazionale della memoria. Tutto questo però non basta, ha sottolineato lo scrittore, ma abbiamo lavorato in tanti e utilmente. Cosa si auspica per il futuro dell'Italia, ma soprattutto degli italiani? È un paese che sappia continuativamente essere civile, non soltanto di fronte alle grandi tragedie, riscoprirsi, ma avere la continuità per cui a un certo punto davvero possano avere bisogno degli eroi. Tra gli ospiti ieri sera anche il sottosegretario di Stato, con delega alle pari opportunità e ai giovani Vincenzo Spadafora, il filosofo Maurizio Ferraris e l'ex membro della Camera dei Deputati Gianni Cuperlo. Il Rinascimento Europeo è il titolo del suo libro, qual è lo scopo e l'obiettivo di questo libro e a chi è rivolto? Forse è rivolto ai più giovani, perché l'Europa va scoperta, va conosciuta fin da quando si è alti poco più di un metro da terra. È il posto dove siamo nati, dove siamo cresciuti. Sì, abbiamo arreditato un continente segnato dalle tragedie del Novecento, ma a lungo pacificato, grazie alla capacità della politica di garantire questa svolta storica. E oggi è un continente di nuovo alle prese con il pericolo, rischio di vedere sacrificato quel patrimonio, perché di nuovo la guerra è precipitata nel cuore di questo continente. E questa è la responsabilità che oggi hanno le classi dirigenti, la politica innanzitutto, i governi, gli statisti, ma anche le opinioni pubbliche. Presidiare, preservare i principi, i valori costitutivi della nostra storia, della nostra civiltà, che sono i valori dell'illuminismo, l'esperienza del romanticismo, la capacità di costruire la convivenza in un continente che per secoli si era lacerato, diviso tra odi, guerre, conflitti e che noi abbiamo la responsabilità di lasciare in doto a chi verrà dopo di noi meglio di come l'abbiamo trovato. Passaggi Festival proseguirà stasera alle ore 21 con la consegna del premio letterario internazionale Franco Fortini nella chiesa di San Francesco. Seguirà un appuntamento dedicato al centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Maria Flora Gianmarioli leggerà Oriana Fallaci con la partecipazione di Pietro Conversano. Curerà l'iniziativa Leandro Castellani. In piazza centrale, invece, sempre alle ore 21, la poetessa e saggista Dacia Maraini riceverà il premio Passaggi 2022. E adesso vi raccontiamo di un'impresa, l'impresa che sta per compiere Giorgio Ferretti, 53 anni, di Fossombrone, che domani partirà da Udine per arrivare a Copenaghen in sella alla sua bicicletta. Lo ha intervistato Filippo Pucci. Il forsempronese Giorgio Ferretti, 53 anni, appassionato di ciclismo da sempre, partirà domani 25 giugno da Udine con destinazione Copenaghen. 1.800 i chilometri totali da percorrere in ben 14 giorni. Giorgio toccherà varie capitali europee come Salzburgo, Monaco, Praga e Berlino a bordo della sua bici. Questo è uno dei tanti viaggi che faccio da anni, diciamo. Il primo, sempre partendo da Fossombrone, andando a Barcellona, poi a Londra, poi ad Amsterdam. L'obiettivo è quello di vedere posti nuovi, vedere posti dove non sono mai stato. Quindi quest'anno farò un po' l'Austria, la Germania e andrò verso la Danimarca. L'obiettivo è quello di scoprire nuovi paesaggi mai esplorati e esplorarli in bicicletta, perché è molto diverso viaggiare in bicicletta da viaggiare in auto. C'è tutto un altro approccio, tutto un altro sentimento e altre sensazioni. Ferretti non sarà solo in questa avventura. Lungo il viaggio sarà affiancato da un suo caro amico. Quest'anno non sarò solo nel viaggio. Con me ci sarà Onorato Fedon, che abita a Domegge di Cadore. Quindi partiremo entrambi da Udine e da lì proseguiremo insieme per tutte le tappe. Dunque, Giorgio, 14 tappe tutte da vivere. Come è suddiviso il viaggio? Le tappe toccheranno principalmente alcune delle città più belle, quindi Salisburgo, Monaco, Praga e Berlino. Poi da Berlino seguirò una ciclabile che ho trovato su internet, che arriva fino a Copenaghen. Poi ovviamente ci sono tappe intermedie che ancora non sono ben fissate, perché poi durante il viaggio molte cose cambiano. Dipende da tante cose, quindi la tappa intermedia può cambiare, si può dormire sempre in posti diversi. Durante tutto il percorso, Giorgio insieme a Fedon realizzeranno foto e video raccontando l'avventura, il paesaggio e le persone. Ovviamente noi viaggeremo da soli, quindi ci farebbe molto piacere avere compagnia. Se ci volete seguire, noi saremo su Facebook, pubblicheremo ogni giorno foto curiose, racconteremo un po' le nostre storie. Ci potete seguire su Giorgio Ferretti Fossombrone quotidianamente. Ogni sera noi ne approfitteremo per riposarci e insieme a voi condividere il viaggio, condividere le notizie. Quindi mi raccomando, seguiteci perché la cosa ci fa molto piacere e ci tiene compagnia. E questo era il nostro ultimo servizio in scaletta. Grazie per averci seguito, l'informazione sul canale 19 di Fano TV torna domani mattina in diretta alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali condotta da Massimo Fuglietti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.